Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Se fosse un consigliere comunale, domani voterebbe la Terra Ambiente? Assolutamente no, per tutte le ragioni che abbiamo esposto e ampiamente rappresentato. Ci sono tante criticità, tante opacità, tante situazioni da chiarire. Abbiamo ritenuto di utilizzare la norma, la norma prevedeva una serie di osservazioni, le abbiamo fatte, ci abbiamo lavorato tanto, riteniamo che sia un tema troppo delicato, importante, strategico, di prospettiva per questa città e per i 158 lavoratori della Team. E non è retorica, io non faccio più politica attiva. La Terra Ambiente ha attraversato tre sindaci, Sperandio, Brucchi, Dalberto. Le differenze? Su questo tema della Team non vedo grandi differenze. Io credo ci sia stata sempre una debolezza rispetto alla gestione dei rapporti con la partecipata pubblica principale di questo comune. E forse si è arrivati a questa situazione anche perché probabilmente bisognava intervenire in maniera molto più energica e seguendo anche autorevoli pareri redatti da professori universitari del calibro del professor Cerulli-Relli che avevano tratteggiato una duplice ipotesi che potesse essere eseguita ma temo che il tempo mi abbia confermato e sia stata disattesa ampiamente. Sull'attesa della gara a doppio oggetto ci sono stati troppi cortigiani. All'orizzonte c'è la Corte dei Conti invece? Sorrido perché il termine cortigiani è mio. Io l'ho cognato in altra sede sulla Corte dei Conti ma non solo ci sono gli organi preposti. Ci sono gli organi preposti, non solo la Corte dei Conti. Preposti ma ci sono i presupposti? Io ritengo di sì sommessamente. Corte dei Conti